burloni oggi faremo macchine contro super flip mortali guardate contro le rampe adesso arriveranno loro arrivando il primo round non l'abbiamo fatta hanno vinto loro raga perché non attivava la rec quindi raga per questa cosa come supporto lasciate un mio mi piace per favore non mi partiva la registrazione che mi prego e minimo mi piace come no Sono ci sono Un è lì l'altro dove sono dietro Non è che sono già morto e che con la neve non tiene una mazza Non ha preso C'è un modo per risalire scusate Mannaggia baddi ti devi suicidare non hai capito va bene tanto ho preso c4 apposta Sei un disastro Giro la macchina aiuto Ok guidato guidato Dai loco vinci per me non l'ho abbastanza Non ci arriva Volevo fare tutto quello capito quello pronto volevo fare war raga è impossibile È impossibile beccarlo questo ragazzo Ma questo è rifigi davvero Marcha miseria No raga è impossibile ma come facciamo a beccarvi Ora lo becchi sicuramente Io ti ho dato una lancia la zia a caso Ti è arrivato vicino? Io non lo vedo neanche Arrivando ma Se non c'è la lampa io Raga c'è un problema di fondo cioè le macchine con la neve vanno male Raga c'è un problema di video E' un carro È impossibile Sì E' giusto così Vc l'abbia fatto assieme nico l'hai fatto un secondo prima te grandissimo Vittoria ragazzi vittoria la meme nico marci baddi aspetta come che erano Loco baddi marci nico Io Dico Marci Bo l'avete scritto voi suiz avete fatto la storia Sì Sai so qua e che cavolo Ma sono sempre le, com'è che si chiamano queste qua? Sono le, oh ti aspetta No le, lo so Ce l'ho sta macchina, come si chiama? La Creeager tipo, la Creeager Ah c'è scritto in basso a destra Marci Marci Dimmi tu, non mi uccidere Ma i C4 da lanciare contro di loro? No, contro di te Cosa vuol dire? No, cioè nel senso, bisogna investirli Oppure? Oppure Dov'è Nico? No, 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 mi fa lasciatelo stare che ha bisogno un attimino di capire come si chiama Marci Oh mamma No, ti ha mancato il missile Oh cavolo Aiuto Vi hai beccati? No, 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 figura Ma di poco, vero? No, no, no Come no? No, 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 campione No, è Nico Ti ho sfiorato Nico Ma che vai lento Ma dai, ma fa schifo Perché Nico si è buttato fuori? Ma non ci si può arrivare, raga Ma come si può arrivare? Ma ci sempre Raga, dovete flippare Dovete fare il war ride da manetta Ma che fortissimo? Devi fare il war ride da manetta Ma ascolta, c'è tanto se non andrà avanti No, Marci, sopra di me, buddy No Ho visto il C4 cadere Ho visto No, non è arrivato il C4, meno male Gli ho mancati, attivali Marci, perché se li fermo ti posso sparare in due secondi, lo sai? Vabbè, ti lascio vivere, Marci Grazie mille Prego Io no Io ho detto di sì Io no Io fermo che mi guardavo Mi uccidono, mi uccidono Solo perché non siete capaci a vita Ossi, uccidiamolo così È l'unico modo per battere Guarda, guarda come si è triggerato Fai schifo, fai Terzo round Aspetta, ma se vinciamo questa ne abbiamo vinto? No No, questa è già per lui Sta 2 a 1 per loro Ah, se hanno 2 a 1 per... No, vabbè, la sua Brucia questa, eh Ma è perché loro ne hanno citata una, cioè Eh, due ne hanno citate, in realtà, che vuoi iniziare, se ti ricordi Aspetta, io lascio un po' a caso No, calmati Mi vedi? Sì, 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 sì Io ho paura Uuuuh Aspetta, non ho la informa Sto con WarRide, devi prendere WarRide Devi prendere WarRide Il WarRide Sì, sì, WarRide Guarda che mo' le piglio, eh Guarda che piglio Nico Ma che vuoi da Nico? Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio e con il ggg ma scusa ma il mister non deve essere un po di più o l'ha seguito l'ho preso mi ha preso le chiappe ragazzi ma l'ha seguito un botto è preso chiesto dai però c4 da un'altra persona ma io non ci credo ma ho vinto ho fatto esplodere ho vinto solo però è morto marci non è morto nessuno ma sai quanto godo godo come un riccio ragazzi dai che questa qui è il nostro nico allora se vinciamo questi il video dura un po troppo poco quindi facciamogli a perdere un pochettino non ucciderli subito con calma devi giocare con loro hanno vinto quindi se manco faccio uccideri ricordo ma si hai ragione voi non fate le cacchine per favore non ho fatto prima ma io cosa ho fatto adesso lancio anche un po di miscili a caso come lanci tu dai mettiamoli a caso noi guarda via con la creager sulla neve si vola marci dico 274 no raga cosa ho fatto come lo so un missile mi ha fatto tipo cambia macchina cambia la macchina ma non puoi non farci giocare neanche un pochino dai no ma nico non deve giocare ho deciso che nico non giochi tu puoi fare quello che vuoi guarda attento io marci con i c4 ti penso io ma marci si rifaccia ordinaria non funzionano nico come ti senti non commento commento post video ok grazie vabbè sentiti si è girato anche voi avete sfruttato questa cosa ma non è vero ero bloccato stava scivolando l'auto stava scivolandolo l'auto io ti ho detto prima che ci voleva guarda la cia amici della ricerca guarda la che arriva solo voi comunque fate queste cose non è vero è buddy l'unico che le fa ma cosa volete da me è loco che mi dà queste idee io penso che loco sia il più bravo grazie adesso lo ci posi a buddy adesso loco è il più bravo non puoi fatti esplodere una tnt una tnt guarda qua marci no me l'ha spalto in testa no lo scappa scappa sto qua sto qua sto qua ecco oh buddy come stai? hai esploso? grazie oh si baddino l'occhino sto arrivando io loco smettere di prendermi soldi ti vengo a prendere a casa in che senso ha posizionato? no no marci questo è quello che è successo a me fuggi fuggi dov'è marci scusate marci eccolo lì prenditi sto razzo insomma proprio preciso mamma mia loco sei un bidone sei come si fa a cambiare visuale voglio vedere meglio loco no marci no mamma mia ti è atterrata in testa bomba e io cosa dovrei fare questo? uscire e cambiare auto no non puoi farlo mi girala e non si gira la macchina loco girala loco dagli una mano sono morto raga sono morto aspetta che mi butto giù e non posso controllare e ma loco non ti può colpire sei troppo sotto che cavolo si ce l'ho fatta e ma marci mi sa che non puoi risalire come non puoi risalire eh no eh vedi c'è il muro e no non vedo dov'è dov'è che scusa non puoi risalire vabbè io rimango qua marci aspetta io ti posso sparare hai marci fico dove stai andando loco se sei un vero uomo vai e noi mi sa boh loco fa schifo raga peggio di me ma tu zitto io penso che tra baddi e loco non so chi sia più ma in questo video ma ti sei messo lì sotto ho deciso quasi così di non caricarlo questo video ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto ci vediamo un prossimo video ciao a tutti ciao a tutti